Ciao amici, sapete quanti italiani soffrono di colesterolo alto? Nessuno perché seguiamo la dieta mediterranea. Sarebbe bello ma... Un italiano su tre soffre di colesterolo alto e di questi quasi la metà non sa di questa condizione, aumentando il rischio di malattie gravi come ipertensione e cardiopatie. Lo dice la SPIREC, Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, in collaborazione con il CNR e la Fondazione Italiana per il Cuore. Per fortuna la scienza ci aiuta con un rimedio naturale inaspettato, protettivo di cuore, circolazione, fegato e ottimo per fare prevenzione contro pressione alta, colesterolo alto, fegato grasso. E c'entra la dieta mediterranea, guarda un po'. Qual è? Qual è? Ve lo dico subito! Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Il cibo in questione è? Il limone! E il merito è della vitamina C e della vitamina E, due potenti antiossidanti. Lo afferma uno studio pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition. Nell'esperimento, 36 ragazzi, forti e sani, hanno seguito per un periodo una dieta ricca di grassi saturi davvero poco sana per cuore e circolazione. Dopo un primo periodo, i ricercatori hanno iniziato a integrare la loro dieta con il limone e i valori dei grassi saturi e colesterolo cattivo LDL si sono decisamente ridotti. Adesso andiamo a farci un succo di limone. Io ne bevo un po' ogni mattina con il mio bicchiere di acqua e limone come spiego in questo video. E non solo il succo ma anche la buccia di limone ha effetti bruciagrassi e utili per il controllo dei grassi saturi. Potete usarla facendo il canarino come spiego in quest'altro video. Se vuoi approfondire questo argomento e sapere come farti seguire da me per avere i massimi risultati senza commettere i classici errori del fai da te, clicca sul link in descrizione e scopri il mio programma dedicato. Ed eccolo il regalino di oggi, il pdf. Lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto o dalla piccola i qui in alto. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali. Grazie a tutti.